Il Vangelo di oggi dunque ci invita a pensare alla vita, a pensare che la nostra vita è inserita nella vita di Dio. La mia vita non è un caso, la mia vita è frutto di un progetto di Dio, è inserita nella vita in Dio. La vita dunque non come un caso e neppure come un incidente di percorso, ma come un grande dono di Dio da accogliere e da osare. Osiamo vivere, ma osiamo vivere per fede in Dio. Questo è il vero coraggio, osare vivere per fede, proprio come ce l'hanno insegnati. Ecco qui tutta la storia della salvezza, i grandi personaggi della storia della salvezza. Cristo Gesù, il centro e il fine della mia vita. Cristo Gesù, il centro e il fine della storia umana. Ecco che cosa ci dice fondamentalmente il Vangelo di oggi. Sia lodato Gesù Cristo.